I carabinieri di Arezzo avevano bussato alla sua porta per il furto di un'auto ma una volta all'interno hanno trovato una minore scomparsa da Torino e da alcune dosi di cocaina. È successo lo scorso sabato pomeriggio di indicatori immediata periferia a retina a conclusione di una tempestiva attività investigativa dei militari dell'arma che nell'arco di poche ore hanno individuato e denunciato un 37enne a retino noto alle forze dell'ordine per aver rubato un'auto in via Calamandrei nel quartiere di Pescaiola. Il furto era stato denunciato la stessa mattina. I carabinieri sono riusciti a risalire all'autore del colpo grazie alle immagini delle telecamere di video e sorveglianza della zona. Le indagini hanno poi permesso ai militari di ricostruire il percorso effettuato dall'uomo e localizzare così il luogo dove era stata nascosta l'auto che adesso è stata restituita al legittimo proprietario. All'interno dell'abitazione dove si nascondeva il 37enne sono state trovate anche alcune dosi di stupefacente. I militari hanno inoltre sorpreso degli assuntori mentre stavano acquistando dall'uomo cocaina. Sono stati così segnalati alla prefettura. Nell'appartamento infine si trovava anche una 17enne scomparsa lo scorso giugno da Torino quando si era allontanata volontariamente da casa. La giovane che pare conoscesse l'uomo con il quale aveva stretto un rapporto di amicizia adesso si trova in una struttura protetta. L'uomo dovrà rispondere di furto aggravato e spaccio di sostanze stupefacenti.